Con l'avvicinarsi dell'estate il parcheggio sotterraneo di Piazza Primo Maggio a Roseto degli Abruzzi rischia di non essere operativo e l'aria in superficie rimanera al buio. Una problematica scaturita a causa del sequestro dei contatori dell'elettricità disposto dal Dipartimento di Prevenzione e Servizio Tutela della Salute dell'Asli di Teramo in seguito all'incidente sul lavoro dello scorso 13 marzo che ha coinvolto un elettricista. Sì, lì come sapete c'è stato un incidente che per fortuna non ha avuto poi conseguenze gravi per coloro che sono in corsi nello stesso che ha in qualche modo creato questo disservizio a causa di un sequestro del contatore che interviene e che insiste sul parcheggio sotterraneo di Piazza Primo Maggio impedendo l'utilità dello stesso, infatti ci sono delle transenne e dello stesso posto sotto sequestro ma soprattutto anche visto che il quadro è quello che poi alimenta tutta la piazza e il disservizio in questi mesi che abbiamo in qualche modo arrecato anche a tutto il quartiere che si è attivato, devo dire, con privati e con attività commerciali per colmare quel gap. Piazza Primo Maggio è un fulcro vitale per Roseto con numerose attività commerciali e residenziali e con l'arrivo dell'estate il parcheggio sotterraneo assume un ruolo cruciale per supportare la vivacità della zona. Due sono le problematiche. La prima riguarda il parcheggio sul quale noi abbiamo fatto una richiesta di dissequestro formale tramite i nostri uffici, tramite la mia firma, al giudice chiedendo il dissequestro dello stesso per motivi di sicurezza e anche di fruibilità perché la sicurezza, il quadro elettrico e il parcheggio oggi non sono in qualche modo utilizzabili perché non solo per una questione di illuminazione ma anche di antincendio e di tutti i dispositivi necessari. Di pari passo però stiamo intervenendo col Vice Sindaco con la ditta nuova appaltatrice perché il collaudo è stato firmato qualche settimana fa e la Menovat per intervenire sulla illuminazione della piazza. Su quella si potrà intervenire nel breve periodo. Rispetto al parcheggio noi dobbiamo essere onesti, non dipende da noi, stiamo pressando ma più che fare una richiesta non possiamo fare. Sapete che la magistratura ai suoi tempi c'è una separazione dei poteri in Italia sulla quale non possiamo ovviamente intervenire.